Speriamo di strappare Andorba alla scena, vieni Michael, vieni in cabina, allora, esatto, molto bravo nella trappola Michael, allora Michael sai bene, dovrai puntare mentalmente fino a 30 e fermare ovviamente il tempo. Questo è importante, quando premi lascia subito, se no cade subito l'acqua, va bene? Allora, attenzione un attimo Michael prima di partire, facciamo assoluto silenzio in studio per permettere a Michael di tentare di strappare la coppa alla scena, quando vuoi Michael. Grazie a tutti. Michael, per pochissimo, per pochissimo, 29-8, per pochissimo.